Una perla dell'enoturismo d'eccellenza dopo il progetto Villa Neviera Wine Resort che sarà presentato nei prossimi mesi, Due Palme aggiunge un tassello fondamentale con il lusuoso Chelina Char Motel, collocato nel centro storico di Cellino San Marco. La struttura è stata inaugurata con una parte che ha ospitato istituzioni come la Presidente della provincia di Brindisi Matarrelli e la Sindaco di Cellino Marra, volti noti del vino e tanti amici accolti dal fondatore Angelo Maci. Esportiamo il vino in 90 paesi del mondo e il principio di quell'investimento è stato quello cioè portare i nostri inglesi, tedeschi, importatori di tutto il mondo a Cellino San Marco per fargli innamorare, per fargli vedere il vigneto per fargli vedere la bellezza dei nostri due mari la bellezza del nostro settore agricolo. Una perfetta fusione tra vino, cultura e turismo come spiega Melissa Maci Presidente di Due Palme. Ci dà la possibilità a questa nuova gestione di questa struttura lussuosa e prestigiosa al centro del paese di, come dicevo appunto prima, anticipare di qualche mese questo nuovo progetto nell'ambito dell'enoturismo. Noi siamo felicissimi, siamo certi che anche in quest'ambito dove dopo essere riusciti per 34 anni a promuovere le nostre eccellenze nel mondo adesso è giunto il momento di promuovere il territorio in cui si producono queste eccellenze. Otto camere, tra cui tre suite superior, tre classiche, due economy e l'offerta della chelina affidata dal CDA Due Palme alla competenza di Antonella Maci. È una struttura bellissima, quindi spero di riuscire a renderla ancora più bella attraverso i mille eventi che organizzerò perché questa struttura sarà soprattutto una struttura che faremo degli eventi mirati.